Ciao a tutti ragazzi, ho acquistato questo oggetto da Amazon, si tratta di una schiuma da barba a base di burro di cacao, infatti vedete che è gialla l'ho spesso trovata in negozio, non l'ho mai acquistata perché costava tanto adesso dopo averla trovata in offerta su Amazon l'ho voluta provare e capisco perché costa tanto vi dico subito che sarà quasi certamente la mia schiuma da barba definitiva per vari motivi allora intanto 300 ml, una bella bomboletta bassa, piccolina, vedete quanto la mano quindi riesce a stare nel mobile del mio bagno e questo già è una gran cosa, quindi è larga e bassa poi il fatto che abbia un'etichetta completa, ok, difficilmente sulla... di solito si trovano schiume da barba importate con diciture scritte in lingue che non sono neanche inglese questa invece è proprio scritta tutta in italiano, non so neanche dove sia prodotta, vediamo ah ok, proprio italiana, è proprio italiana, dunque qui dice schiuma da barba protettiva infatti contiene il burro di cacao e quindi è protettiva in quanto ha un'elevata concentrazione lipidica immagino di grasso, quindi un'etichetta bella completa, il formato maxi ma mini, quindi grande ma basso io ne ho applicata un pochino sulla carta per farvi vedere adesso la carta è quella riciclata, è giallina, quindi non si nota la differenza ma vi dico subito, la crema è profumatissima, ha un odore buonissimo non servirebbe neanche il dopo barba dopo aver fatto la rasatura perché il profumo è veramente, è dolce, è buonissimo poi è gialla, rispetto a tutte le altre che sono, io adesso ce l'ho da qualche minuto qui, come vedete non scompare la schiuma e non inumidisce il foglio vedete, quindi è proprio lipidica e è una schiuma veramente densa difficilmente chi utilizza le schiume da barba, quelle che capitano da un euro, un euro e cinquanta difficilmente si trova una qualità del genere adesso a livello tecnico non so spiegarvi esattamente la differenza però come formato, come profumazione, come qualità di rasatura diciamo con questa schiuma da barba per me è top, quindi 5 stelle meritate spero sia stata utile, ciao alla prossima